Conoscete i Rolling Stone? No, che cazzo li conosci i Rolling Stone? Se mica parlano dei Beatles, cioè... Quest'anno abbiamo collaborato con un artista che è venuto e ha cantato un pezzo nelle jam e ho detto, cazzo, questo pezzo qua è bellissimo come l'ha fatto noi io ve lo dico, lo riproponiamo come l'ha fatto lui perché... perché le volte le persone che non sono così famose riescono anche a fare delle cose fighe però non hanno l'eco che hanno gli altri bene, noi vi facciamo questo pezzo degli Stones con cui chiudiamo questa nostra piccola parentesi augurando il buon Natale e ringraziando l'Italia e Bruce River per cui io farei un grande applauso ringraziamo Moira, la Presidente dell'Italia e Bruce River altro applauso tutto il direttivo, l'organizzazione, il blu dirigente del fuoco, poi... le ambulanze ci sono delle ambulanze fatte venire io direi che possiamo partire così grazie a tutti Il nostro corso gratuito 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 Grazie! 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 Grazie!